Noi ci stiamo stancando, ma non fanno la stagione. Entra quando parte la... Vabbè magari degli strappettini. Sì, no, no, non c'è l'inizio. Sono dei strappettini piccolissimi. Gli strappettini di culo. No, davvero. Entra con la... Dai, va a fa un culo. Sai cosa devi fare. Vai. Sai cosa devi fare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.